La buona novella perché è un concetto ovviamente dedicato ai repertori del Natale in generale di questo ciclo di festività che vanno dall'immagolata fino all'epiferia. La buona novella è un concetto con tanti strumenti particolari, molti di questi siete già arrivati a vederli anche nei concetti che si fanno qui in zona. Gli altri libri ci sono più curiosi, forse i musicisti racconteranno qualcosa di questi strumenti oltre a raccontare qualcosa del loro musico. Prima di presentare il gruppo, alcuni ringrazionieri. In primo luogo ringraziamo Don Alessandro che ci ospita qui in chiesa per questo concetto. all'amministrazione comunale, Paolo Soscia, l'assessore alla cultura. E ringraziamo voi che siete venuti ad assistere a questo concetto proposto da Controvento Trio. Quindi Trio fa capire che saranno tre musicisti scena, ma in realtà lo spettacolo riserva alcune sorprese per cui nel corso di questa serata, che succederanno delle cose simpatiche e curiosi sempre intorno al tema della musica del Natale. Con Controvento di Rio, che sono Clara Granciano, che apriano il giudizio, per questo concetto. Grazie. Buonasera a tutti. 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 Rosano, ragazzo, 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 Grazie.